L'amore. Capitolo 1 Io non lo so se questo essere innamorata di qualcuno. Forse sì. Beh, me l'avessero detto anche solo tre giorni fa. Non ci avrei creduto. Non credevo neanche di essere capace di certe cose. Non avrei mai pensato di essere in grado, che so, di svegliarmi mezz'ora prima del solito. Felice di farlo e senza bisogno di rimandare la sveglia sei volte come al solito. Non avrei mai creduto di essere capace di metterci dieci minuti e non i canonici trenta secondi per decidere cosa mettermi. Non avrei creduto di pensare... ok, solo pensare, non è che l'ho fatta. Di mettermi un tacco di matita sugli occhi. Così. Tanto per. Poi, soprattutto, non avrei creduto di essere in grado di andare a scuola senza quella specie di paura. Paura, paura delle persone che ci stanno dentro e di quello che fanno, di come lo fanno, come... come quando uno è considerato universalmente uno sfigato, ecco. Che magari fa una battuta divertente e tutti fanno quelle risate finte, come per dire... dovevamo ridere. E se invece la stessa identica battuta la fa Casali, allora tutti giù a ridere. Paura che per sentirsi migliori sia quasi obbligatorio far parte di un gruppo, essere... essere dentro una cerchia. Ma... beh... da quando ci sono conosciuti... sento come una spinta diversa, un entusiasmo per tutto. È come se avessi sempre visto lo stesso film, in bianco e nero. E poi... improvvisamente, lo stesso film... a colori. L'amore. Capitolo 2. Amore? Spero proprio di trovarlo. La fantomatica anima gemella? No. Non voglio una persona che mi completi. Voglio qualcuno che mi accompagni. Con la quale non devo fingere. Non devo cambiare. Anzi, mi conosce e mi apprezza per quello che sono. Mi sorride. Mi conforta. Mi rilassa. Mi consiglia. Mi scopre. E mi sostiene nelle battaglie. Insomma, vorrei... che la pensassimo allo stesso modo. Oddio. No. Questo per la verità un po' mi spaventa. Ho paura di non essere più una singola persona, ma una parte di una coppia. Cioè, se uno mi pensa, vorrei che pensasse a me, non a me e a qualcun altro. Cioè, sono un po' preoccupata, ecco. Però, in realtà, questo pensiero non mi è molto chiaro, eh. Vabbè. L'amore mi affascina. È così potente e così fragile. Anche questo concetto, in realtà, è poco chiaro. Ma, vabbè. Cioè, che poi, il vero amore esiste? Per me, no. Cioè, se una persona prova amore, lo prova e basta. Che poi sia un amore non ricambiato, non compreso. Ecco, quella è un'altra storia. Cosa vuol dire vero amore? Cioè, esiste forse un amore finto? Beh, credo che l'uomo abbia tante qualità, ma quella più grande è proprio quella di riuscire ad amare. Cioè, non dico che l'amore fra gli animali non lo sia. Anzi, ci sono certi tipi di pesci che stanno insieme per tutta la vita. Però, penso che l'uomo abbia così tanti ma tanti difetti che, in fondo, la capacità di amare è la sua unica qualità. L'amore è scambio. È empatia. È pazzia. È libertà. È gelosia. È fiducia, però. È romanticismo. Mettersi in gioco. Quindi, per farla breve, cosa sogno? Sogno di poter trovare un grande amore. Sogno di saperlo riconoscere. Che poi, come si fa a riconoscere, ha preferito una persona su otto miliardi. Ma, cioè, questo qualcuno me lo deve spiegare. Sogno di non perderlo. Sogno di trovare qualcuno. Ah, provo rabbia nei confronti dell'amore. Perché spesso arriva per una persona e non per l'altra. Cioè, e se mi capita così? Credo. Credo che non essere ricambiati faccia spezzare il cuore. faccia sembrare di non essere all'altezza. Di pensare di dover cambiare. Non ho altri esempi. Sì. Io sogno di poter trovare un grande amore. Ma non presto però, eh? Cioè, magari un po' più avanti. L'amore Capitolo 3 Quindici anni Timido Sensibile Introverso Del tutto incapace Di un rapporto normale Con le ragazze Rapporto in che senso? Nel senso di relazione Incontro Come dici? Non rimorchio Ok Hai ragione Gli altri Ci sanno fare con le ragazze Io No Quando ne incontro una che mi piace Sento un conflitto che si scatena dentro di me Fra Ragione Quieto vivere Timidezza e E dall'altra parte Fra istinto, cuore e Ormoni Alla fine Vincono sempre i primi tre E io Non so darmi pace Il fatto è Che ho paura Del rifiuto Tutte le volte che decido Ad avvicinarmi Di una ragazza C'è come un demone che mi rosa in testa E mi dice Lascia perdere Ti renderai solo ridicolo Ed io Inevitabilmente Gli do ascolto Però Non voglio passare Tutta l'adolescenza Da solo O con il branco Come dici? Il rimorchio è un dono di natura Chi lo possiede E chi no E vabbè Ma allora Ditelo No L'amore Capitolo 4 A volte Basta poco Oppure Sembra Poco Un abbraccio Ad esempio La gente Lo fa tutti i giorni Che sarà mai? Vuoi mettere In confronto a un bacio O al sesso Nella scala di importanza L'abbraccio È dozzine di gradini Più sotto Ma quelli che la pensano così Forse Si sono dimenticati Che cos'è il primo abbraccio Quello che ti arriva Da quel ragazzo O quella ragazza Niente di sdolcinato Per carità Qui il miele Non c'entra niente È che il primo abbraccio Non è solo un abbraccio Mai È la prima volta Che il tuo corpo Si appoggia Sul corpo di qualcun altro E in quel contatto Senti la tua pancia Diventare come concava La senti diventare bicchiere E l'altro Acqua fresca Il primo abbraccio Non è solo un abbraccio Perché prima Sei cocci sparsi Che proprio in quel momento Iniziano a mettersi insieme Pazientemente Certo Ci vorrà un sacco di tempo Forse Una vita intera Ma È lì che inizi Proprio lì A diventare qualcosa E non più Cocci sparsi Certo Per l'altro Certo